che da Rienzettua. Mercoledì ho avuto la conferma su quanto abbia visto bene a gennaio a troncare, con coraggio e decisione, anche se a malincuore, nell'amministrazione di cui facevo parte. Credo che il mio comportamento corretto e rispettoso nei confronti della lista di Rienzettua, di chi ha convissuto con me un percorso però ormai finito, oggi non posso più essere continuato, non posso più essere educato. Mi trovo nella situazione di dover essere diretto, sforzandomi solo di non essere offensivo, visto che le accuse fatte sono gravi e malvagie. Tratterò stasera due argomenti, da cui poi sarete voi a trarre le conclusioni. La procedura del PUC e il bando di gara della Mensa. All'inizio del nostro mandato elettorale, in qualità di delegato all'urbanistica, mi sono attivato per iniziare la procedura al fine di portare a completamento l'iter per l'attuazione del PUC, mettendomi in contatto con i tecnici indicati, incaricati nella precedente amministrazione, rispettoso dei ruoli e dei professionisti che avevano già fatto tanto lavoro. I tecnici incaricati, riuniti in un raggruppamento temporaneo, vincitori di gara pubblica durante l'amministrazione medici, sono quattro, tra cui uno a Rienzano. Questo, Davide, per te e qualcun altro dei tuoi fedelissimi, era un problema, tanto da intrattenere una tua disputa personale con il capogruppo, l'architetto Bernasconi, solo per provare ad estromettere dal gruppo il tecnico locale. Premesso che il rapporto con i tecnici incaricati, come giusto che sia, e come la norma prevede, va sempre intrattenuto dai dirigenti comunali. In questa fase, invece, hai gestito tutto tu, bypassando tutti, i dirigenti ed il RUP, inviando una tua comunicazione direttamente al capogruppo della RTP, del raggruppamento, che hai negato nel tuo scorso comizio in questa piazza, e che mi hai invitato a smentire. Adesso sono costretto a farvi ascoltare l'audio che ha utilizzato Davide nel suo comizio, quindi mi scuserete, Davide, scusami solo di questo. Io ho mandato una lettera ai progettisti del CUC, nel quale dicevano che un dovere si doveva interfacciare solo con lui. Ma hai fatto? E chiedo all'ex delegato di un parisimo di smentire questa cosa, perché tu sa bene che non è così. Francesco, un po' la slide. Bene, questa è la slide. Un po' francese, ti dobbiamo licenziare. Ok. Questa è la lettera che è stata inviata, con il protocollo numero 8858, il 9 novembre 2015, all'architetto Romano Berascoli. Ci sta il cappelletto dove facciamo i complimenti, dove Davide fa i complimenti. Poi dice, inoltre, in considerazione dell'avanzato stato dell'arte relativo al redigendo CUC, si rappresenta l'opportunità che alla definizione degli elaborati provvedano i soli architetto Romano Bernasconi, ingegnere Nicodemo Pettiruti, non ravvisandosi la necessità di avvalersi in questa fase conclusiva del lavoro dei restanti tecnici dell'RTP. Poi sotto, vedete, che si chiede all'architetto Romano Bernasconi, l'ingegnere Nicodemo Pettiruti, con i quali confida il sindaco, di avere da subito proficui contatti per la soddisfacente conclusione dell'incarico in oggetto. Di firma Davide Guida.